benvenuti tutti i ragazzi benvenuti in questo video di run run 3d in questo gioco è uscito bombo e per questo vorrei provare come si gioca allora qua sono i colori io voglio essere giallo perché non il colo ferito uuuu stanno pure le emoti puoi ballare vediamo teniamo i soldi quindi 250 io non saprei sembra di palletti questo elemento in uso vabbè come dovremmo giocare qui poi sto schiacciando qui ecco non ho letto caprenze ci sono dei compagni io non so come si gioca cioè come si gioca qui cioè vorrei sapere come si gioca ma mi sono dei beni giochi ecco perché non si sapeva ecco qua usiamo questo madonna non so come si gioca qui guardiamo doveva finire diciamo in buca il primo colpo se vinciamo qua e ci prendi io scusate cioè io pensavo che è gioco di là io non ci credo allora ecco ho capito il ritmo se vinciamo qua è difficile perché tu non capisci sembra io ma raga c'è botto freddo la pubblicità di botto freddo c'è botto freddo la pubblicità di botto freddo la pubblicità di botto freddo la pubblicità e stai cominciando a capire il gioco però non capisco bene dai è perché ho sbagliato però non è andato bene ragazzi è difficile cioè scarcatevelo pure voi ma è un po' difficile sarò eliminato ma raga guardate cioè quante pubblicità ci sono forse sto gioco mi potrebbe piacere forse raga vediamo come si gioca perché io sto gioco non ci riesco dice qua in alto a sinistra demolitore sarà eliminato cioè incredibile passiamo ad agio questo ui sono primo incredibile sto per vincere nonno dai secondo raga ma che pubblicità non voglio scoprire niente scoprile che mi interessa raga sono arrivato secondo io non sapevo come si giocava cioè quale devi partire così io non sono ancora stavo dicendo ma io non sono stato ancora uno è morto è morto un altro oh lei lei ma che bella giornata incredibile vengo io oh demolitore primo in classifica siete tutti dei perdenti oh 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 forza ho sbloccato una nuova mappa e ok io la provo vediamo bello lui oh io penso che non verrò eliminato se raga è difficile non sai come sarà giù per la montagna sono eliminato raga è difficile sto coso qua poi che siano di nuovo per i nuovi che l'hanno appena sbloccato quell'altra mappa era appena abituato su 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 si 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 uno è stato eliminato e non sono io e mo sono io sono arrivato raga io provo ciao io me ne va poi sono arrivati i compagni miei i molitori mi andava raga ci facciamo altre due partite vediamo se possiamo vincere su 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 voglio provo a vincere un'altra non mi va scusate si è buggato bugga 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 si è buggato bugga bugga ora è già di nuovo uscita ok ma forse mi vorrei comprare un nuovo una nuova schifo cioè un nuovo balletto perché prima ho vinto e è che è stato bello incredibile non ci credo e la batteria ora si sta scaricando lui è re io passo il vantaggio ecco che lo supero raga quarto aaaah non ci credo il prossimo sono io ad essere eliminato no vabbè raga si è bacca di brutto si è bacca di brutto no io mi vado a comprare un altro balletto lo schiaccio le 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 ma che brutta giornata uscita no no voglio dei balletti mmm no che schifo è criminale siamo diventati dei criminali questo 2540 no vediamo questo allora questo mi piace a pagamarta eeeh allora io direi di firmarci così arriviamo almeno a un po' di like iscrivetevi a la campanellina e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao